Una buona serata a tutti voi da parte mia e di tutta la redazione. Eccoci all'ultimo appuntamento del telegiornale con l'edizione delle 23. Parliamo in apertura della sentenza con la quale il Tar ha accolto il ricorso di Confindustria che rappresentava gli imprenditori che vantano crediti nei confronti della regione. È stata dichiarata illegittima la delibera con la quale l'ente di Via Genova chiedeva agli imprenditori di documentare il credito vantato entro termini perentori, pena l'annullamento dei soldi che dovevano essere evidentemente pagati. Sentiamo i dettagli. Avrebbero dovuto documentare i propri crediti entro un termine perentorio. In caso contrario le pendenze con la regione sarebbero state cancellate. Una beffa per le imprese che vantano dall'ente di Via Genova pendenze milionarie che rappresentano anche un fardello notevole nel bilancio della regione. Per abbattere i debiti, nelle more fino all'80%, la regione aveva messo a punto una delibera con la quale intimava alle aziende creditrici di produrre la documentazione necessaria per dimostrare effettivamente di vantare un credito. Pena l'annullamento totale dell'importo. Una sorta di prova al contrario contestata subito da Confindustria che ha impugnato la delibera davanti al Tribunale amministrativo. Il Tar ha accolto il ricorso degli avvocati Salvatore e Giuliano Di Pardo dichiarando illegittima la controversa procedura per rilevare e abbattere i debiti commerciali della regione. I giudici hanno riconosciuto la piena legittimazione dell'associazione a tutelare un interesse collettivo definendolo distinto e autonomo rispetto a quello dei singoli associati. Il presidente di Confindustria Vincenzo Longobardi ha accolto con soddisfazione la sentenza e sottolineato l'importanza del ruolo delle organizzazioni di categoria nel difendere gli associati da provvedimenti ritenuti ingiusti. Sullo sfondo resta la questione del disavanzo regionale. La stessa Corte dei Conti, nella mancata parifica dello scorso ottobre, ha evidenziato la tenace resistenza della regione nell'applicare correttamente i principi contabili con conseguenti criticità nella gestione del bilancio. E si contano i danni in molte zone del Molise a causa del vento forte che ha flagellato la regione nelle ultime ore. Oggi la protezione civile ha diramato l'allerta gialla per le raffiche che hanno soffiato fino a 90 chilometri orari. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami spezzati e alberi abbattuti sulla costa. La violenta ammareggiata ha costretto le imbarcazioni a rimanere in porto. Sono stati interrotti i collegamenti per le isole e tremiti. Come dicevamo, tanti gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona di Isernia, a Castelvolturno e a Rocchetta al Volturno, ma anche a Bagnoli del Trigno e a Torella. Per gli alberi che hanno ostruito in molti casi la carreggiata, alcuni rami sono stati rimossi anche davanti al liceo scientifico di Termoli. Dal prossimo primo dicembre stop alle fermate e a bordo strada sulla Bifernina. A dirlo è il segretario della CGL Trasporti. Situazioni a rischio non più tollerabili, ha detto dall'esponente sindacale. Arriva anche una disamina severa sulla situazione del trasporto pubblico in Molise. Il servizio è di Pasquale Di Bello. Insieme alla sanità è uno dei temi centrali per il futuro del Molise. Parliamo dei trasporti con parto nel quale continuano ad essere alte le preoccupazioni tanto per i cittadini quanto per i lavoratori. A toccare gli aspetti più critici di un sistema complesso è il segretario generale Abruzzo e Molise della Filt CGL Aurelio Di Eugenio. Il trasporto pubblico locale in Molise è afflitto solo da criticità. Da criticità che sono ventennali. Criticità che non si risolvono. Che chi li deve risolvere vive nell'indifferenza. I lavoratori, ad esempio, dei ATM che ogni mese per prendere lo stipendio devono fare i decreti ingiuntivi. Ad oggi molti di coloro che non hanno fatto il decreto ingiuntivo ancora non percepiscono lo stipendio di ottobre. È inconcepibile, è inconcepibile che questo accade. Accade nell'indifferenza delle istituzioni. E questo, guarda, è inammissibile che le famiglie vengono lasciate sull'astrico. Quindi crediamo che queste cose oramai debbano cessare. Insieme alle garanzie per i lavoratori del settore, uno dei temi caldi è quello della sicurezza. Stop alle fermate a bordo strada lungo la Bifernina, dice il sindacalista. Dal prossimo primo dicembre scatterà la protesta di molti autisti. Le criticità che abbiamo sull'arteria, sulla Bifernina. Ci sono fermate che non sono autorizzate, che sono pericolosissime. I lavoratori, gli autisti vengono anche sanzionati per effettuare quelle fermate. Tra l'altro, questa cosa, dal primo di dicembre, molti lavoratori hanno dichiarato che non si fermeranno più. Lo fanno per tutelare loro stesso, ma soprattutto gli utenti, i ragazzi che scendono nelle fermate che sono pericolose. Quindi anche qui, le istituzioni, questo fenomeno, questa criticità, le organizzazioni sindacali lo hanno denunciate da anni. Facciamo appello alle istituzioni, alla regione, alla questura, alla prefettura, ai sindaci. Tuteliamo gli autisti, tuteliamo i cittadini che in pratica prendono i mezzi pubblici. Dopo la sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte, nominata vicepresidente dell'Anci, anche il sindaco di Petrella entra a far parte della direzione nazionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ringrazio il mio partito, ha detto amoroso per la fiducia che mi è stata riservata, il mio sarà un impegno concreto, ha aggiunto, porterò a compimento tutti gli obiettivi prestabiliti. Conosco bene le tematiche degli enti locali, ha concluso essendo arrivato al terzo mandato come sindaco di Petrella. E ora parliamo di sanità, di una buona sanità per la notizia che arriva dal Santimoteo di Termoli, dove il primario di ostetricia e ginecologia Vincenzo Biondelli ha proposto il corso di laparoscopia per fornire ai professionisti nuovi strumenti, ma soprattutto competenze pratiche della chirurgia mini-invasiva. Ce ne parla Andrea Nasillo. È partito al Santimoteo di Termoli il corso di laparoscopia che avrà la durata di un anno e sarà effettuato da Vincenzo Biondelli, neoprimario di ostetricia e ginecologia della struttura ospedaliera Basso Molisana, in collaborazione con il collega Eric Francescangeli, che dirige lo stesso reparto, ma al Sant'Anna di Brescia. Una novità assoluta per il presidio di Termoli, per gli operatori della sanità, la possibilità di acquisire nuove competenze teoriche, ma soprattutto pratiche. Questo nell'intento di migliorare ancora di più le performance chirurgiche dei colleghi e come fine ultimo è quello di garantire una qualità terapeutica chirurgica alle nostre pazienti, alle pazienti che affegliscono il nostro reparto. La chirurgia mini-invasiva, la chirurgia laparoscopica permette delle decenze molto più rapide, la ripresa lavorativa più rapida, quindi minori gli effetti collaterali post-chirurgici, per cui è un grandissimo vantaggio per la donna. La finalità concreta è di avere di fatto una scuola e mettere in pratica i vantaggi della chirurgia mini-invasiva. Arrivo da Brescia e l'amicizia col dottor Biondelli mi ha portato fin qui. Oltre all'amicizia c'è una grande collaborazione, abbiamo dei progetti, speriamo di riuscire a concretizzarli sempre per offrire in questo ospedale una chirurgia di alto livello. Ha già parlato il dottor Biondelli di quello che è la chirurgia mini-invasiva, ci impegneremo per portarla qui e quindi sicuramente per far sì che le pazienti possano giovare di quello che è la mini-invasività. Nuovi professionisti arrivati al Santimoteo e altri che l'ASREM si sta impegnando a reperire, dai medici alla filiera assistenziale, infermieri tecnici, ostetriche, OSS, tutte figure indispensabili. C'è il massimo impegno come azienda nel far crescere e implementare maggiormente tutte le attività di questo presidio ospedaliero. Non a caso l'ASREM ha fatto molti investimenti sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista assistenziale. Da prossima settimana arriveranno sei infermieri per la sala operatoria. Non ci fermeremo qui perché l'impegno sia della regione sia dell'ASREM è totale per far riprendere questo presidio ospedaliero. Anche col dottor Ferrara, ultimo arrivato anche come chirurgo, oltre al dottor Biontelli, è un forte impegno la dimostrazione che ASREM ce la sta mettendo tutte. Fondamentale soddisfare la necessità di un costante efficientamento per il presidio di Termoli. La progettualità del presidio è efficientare le risorse e le attività del blocco operatorio. Ringrazio la direzione aziendale perché investe per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse al nostro presidio e spero che il presidio venga percepito sempre in maniera più attrattiva e sicura da parte degli utenti. Ancora interruzioni notturne dell'acqua Campobasso, Portocannone, Campomarino, Baranello, Mirabello, Ripa Limosani e Vinchiaturo dalle 23 alle 5 di domani, da mezzanotte alle 6 e domenica e lunedì dalle 23 alle 5. La comunicazione è della Grim. A partire da maggio scorso sono stati realizzati a Termoli gli interventi propedeutici per la delocalizzazione del depuratore. Intanto l'azienda che gestisce il servizio idrico in città ha inaugurato una nuova sede con nuovi servizi. Vediamo. I lavori di delocalizzazione del depuratore del porto di Termoli sono iniziati a fine maggio scorso. In occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Acia Molise, l'azienda che gestisce il servizio idrico a Termoli è stato illustrato lo stato dell'arte degli interventi messi in campo e propedeutici a quella che sarà la realizzazione finale della delocalizzazione. Abbiamo terminato la fase di progettazione definitiva che era indispensabile per l'inizio dei lavori del cantiere ed abbiamo fatto una serie di operazioni tecniche di interventi che erano propedeutici proprio allo spostamento. Noi dismetteremo questo depuratore nel momento in cui nella zona del Pantano Basso sarà costruito, quindi sarà terminata la costruzione di un depuratore che avrà la forza, la potenza, ma soprattutto una tecnologia avanzata per riuscire a rispondere alle esigenze della distribuzione idrica. Siamo pronti per rivolgerci all'esterno, sul territorio nazionale oltre che locale, per lanciare le ditte che ci supporteranno in questa attività, che inizierà certamente nel primo trimestre del 2025. La CEA Molise ha inaugurato i nuovi uffici amministrativi e tecnici di sportelli commerciali a Termoli. Ci saranno nuovi servizi digitali per gli utenti, in primis la prenotazione elettronica dell'appuntamento per lo sportello fisico e lo sportello digitale attraverso il quale poter effettuare la videochiamata. Al taglio del nastro anche il governatore Francesco Roberti, l'assessore regionale Michele Marone, il sindaco Nico Balice e il vescovo Gianfranco De Luca che si è adoperato per garantire la disponibilità di un grande spazio completamente ristrutturato. Torna sui banchi anche a CEA Scuola con il progetto educazione idrica rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Si tratta di attività di informazione e formazione sul ciclo idrico integrato e sull'uso consapevole dell'acqua. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia al Comune di Campobasso si dichiara compiaciuto per l'interrogazione del senatore della Porta sulla sicurezza urbana per la risposta del sottosegretario Prisco sulla necessità di maggiore attenzione alle esigenze locali. Siamo convinti, hanno detto Pilone, Annuario e Di Claudio che il recente disegno di legge sulla sicurezza oltre a rappresentare un'ulteriore promessa mantenuta dal governo Meloni testimonia concretamente la risposta alle tante richieste degli italiani in tema di sicurezza. È stata intanto dichiarata illegittima la postazione dell'autovelox di Pettoranello del Molise. A rivelarlo è l'associazione del Comitato Pro Trignina Bruzzo e Molise. Il ricorso presentato alla Prefettura di Sernia da un'associata di Boiano per un verbale da 193 euro è stato accolto in quanto la postazione non sarebbe autorizzata dal decreto prefettizio. Secondo l'associazione sarebbero circa 3.000 i verbali da annullare e pertanto gli automobilisti sono stati invitati a presentare ricorso contro le multe. Torniamo a Campobasso dove per l'ultimo giorno del Festival della Filosofia si è parlato di intelligenza artificiale e delle sue applicazioni. Ce ne parla in questo servizio Francesca Massimano. L'intelligenza artificiale e l'arte del futuro è stato questo il tema scelto per la giornata di chiusura del primo Festival della Filosofia di Campobasso. Un evento fortemente voluto dalla sindaca Maria Luisa Forte e dall'assessore alla cultura delle Fraracci che ha registrato il tutto esaurito per i tre giorni di durata. Una mattinata per riflettere sui vantaggi e i pericoli dell'intelligenza artificiale con l'aiuto di numerosi ospiti tra cui il filosofo Andrea Colamedici. Quali sono i pericoli dell'intelligenza artificiale? I pericoli sono tantissimi, almeno numerosi quante le opportunità perché da una parte ci sono dei pericoli etici, ci sono dei pericoli economici, dei pericoli sociali, dei pericoli che riguardano la nostra capacità di perdere il pensiero e quindi il delegare radicalmente l'esercizio del pensiero. Ci sono dei pericoli che riguardano anche l'agone pubblico perché rischiamo di delegare il funzionamento delle nostre infrastrutture, delle nostre piattaforme. Ci sono dei pericoli esistenziali, coscienziali perché rischiamo di domandarci che cosa ci sto a fare al mondo se c'è qualcosa che riesce a fare tutto meglio di me. L'intelligenza artificiale è un farmacon, Platone chiamava così la scrittura. Farmacon significa ciò che è contemporaneamente cura e veleno. Sta a noi imparare a dosarla e a capire in che modo possiamo tirarla fuori nel momento del bisogno e metterla da parte quando necessario. Al centro dell'intervento del vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti Cosimo Santimone è il rapporto tra comunicazione e intelligenza artificiale, sempre più presente nel giornalismo e nella comunicazione politica. Anche come Ordine di recenti abbiamo attivato un corso dedicato proprio all'intelligenza artificiale e a come utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno di una redazione giornalistica, quindi a come vagliare le fonti e a come avere l'intelligenza artificiale, a guardarla come uno strumento di supporto del lavoro di giornalista, ma non dovrà mai sostituirsi a quello che è poi la professione appunto del giornalista. Soddisfazione per l'assessore Fraracci che vorrebbe trasformare questo festival in un appuntamento fisso. La sala è piena perché eravamo convintissimi che il tema dell'intelligenza artificiale avrebbe particolarmente, come dire, lusingato i giovani e abbiamo scelto in realtà questa tematica proprio innanzitutto per i giovani perché noi siamo nativi democratici e loro sono nativi digitali. Quindi verrà riproposto questo festival? Sicuramente sì, stiamo già pensando a una nuova edizione, volevamo partire dalla identità, vedremo l'anno prossimo se sarà proprio questa la parola magica. Ed è stato insegnito della medaglia d'oro l'Istituto Majorana Fascitelli, sia come liceo scientifico che come liceo classico, come migliore scuola della provincia nella classifica eduscopio. Un risultato, ha detto il dirigente Carmelina Dinezza, che premia l'impegno quotidiano con nuovi metodi di approfondimento e insegnamento. Ce ne parla Valeria Migliore. Svetta al primo posto nella classifica delle migliori scuole della provincia di Sernia l'Istituto Majorana Fascitelli, che ha ottenuto il primato sia per il liceo scientifico che per il classico. Nella classifica eduscopio 2024, che analizza le performance universitarie degli studenti fino a tre anni dal conseguimento del diploma, la medaglia d'oro va alla scuola presieduta dalla dirigente Carmelina Dinezza. Risultati degni di nota anche a livello regionale. Per quanto riguarda l'indirizzo scienze applicate, il Majorana Fascitelli risulta primo in tutto il Molise, mentre il liceo scientifico ordinamentale è secondo solo al Romita di Campobasso. Non è da meno il liceo classico. Di un solo punto, inferiore a quello del Mario Pagano del Capoluogo, primo istituto in classifica, conferma il trend del Majorana Fascitelli, ottime le performance raggiunte dai giovani diplomati che si affacciano alla carriera universitaria. La graduatoria tiene conto della media dei voti e dei crediti ottenuti in una scala che va da 0 a 100 e si configura come una utile guida alla scelta da parte degli allievi che hanno terminato la terza media dei migliori istituti di istruzione secondaria. I dati estremamente soddisfacenti restituiti dalla Fondazione Agnelli attraverso la piattaforma eduscopio ci rendono orgogliosi, ha commentato la dirigente scolastica Carmelina Dinezza e ci ripagano dell'impegno profuso nella quotidiana ricerca della qualità. Negli ultimi anni, ha continuato, abbiamo voluto creare un ambiente fluido e interconnesso dove mescolare e contaminare le conoscenze con metodologie innovative, supporti analogici e tecnologie digitali. Un approccio, ha concluso Dinezza, confermato dai dati che ci collocano a livello delle migliori scuole d'Italia. Si sono colorate di blu le facciate di alcuni municipi in occasione della giornata mondiale dell'infanzia promossa dall'UNICEF. Stefano Ricci. Era il 20 novembre del 1989 quando all'ONU si firmava la Convenzione per sancire i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Da allora l'UNICEF supporta la giornata mondiale istituita per ricordare che ogni manciata di secondi nel mondo muore un bambino, una stagione della vita ben lungi dall'essere felice per fame, malattie, guerre e violenze. Ha portato, diciamo, questa avventata a tutti i governi praticamente di mettere l'infanzia al primo posto. 196 stati nel mondo l'hanno ratificata e quindi si dovrebbero, si dovevano adeguare a far sì che il mondo dei piccoli fosse praticamente destinato a un futuro migliore. L'UNICEF ha promosso Go Blue, l'idea che illuminare i municipi sia di ricordo e monito. In Molise ha aderito il comune capoluogo, così come Iserni, Agnone, Frosolona, Capracotta e Pietracatella, solo una delle iniziative che si stanno portando avanti. Colorare con alcune amministrazioni delle panchine per sottolineare praticamente l'interesse, la sensibilità dell'amministrazione ai temi dell'infanzia. Quindi le dipingiamo di azzurro e quindi diamo questo senso di speranza anche per le piccole comunità. Anche luoghi che si credono a riparo per la tutela e la promozione dell'infanzia non possono abbassare la guardia. La regione Molise, proprio dai dati recenti, sembrerebbe la regione più depressa d'Italia. E quindi di conseguenza anche l'infanzia, anche i bambini ne risentono. Ma questo è venuto fuori sia per le condizioni del territorio, paesi isolati ovviamente, dove non c'è molta comunicazione, molta attività e sia soprattutto dal periodo della pandemia si è riscontrato questo. Ma poi in generale l'infanzia adesso si rifugia nei social e quindi si è perso anche questo contatto che si aveva una volta con i bambini nella strada che si incontravano e giocavano liberamente. In un incontro che si è tenuto all'ordine dei giornalisti si è parlato di comunicazione tra uomo e animali. Vediamo. Amiamo gli animali, ma spesso non sappiamo raccontare le loro storie. Per questo l'Ordine dei giornalisti del Molise ha organizzato un incontro per discutere sull'importanza del rapporto tra l'uomo e gli animali e sulla comunicazione delle notizie che li riguardano. Abbiamo avvertito l'esigenza di rispondere al fatto che si parla molto di animali senza conoscere fino in fondo il loro mondo, il loro linguaggio, le loro dinamiche. I giornalisti che hanno trattato anche a livello nazionale fatti di cronaca spesso hanno così tralasciato questo aspetto che per un buon giornalismo di qualità diventa essenziale. L'Ordine dei giornalisti del Molise cerca di promuovere momenti formativi e di comunicazione, di analisi della comunicazione in senso lato, quindi cercando anche di spaziare su argomenti e approcci anche diversi e nuovi. Il rapporto che ha l'uomo con gli animali è basato sull'empatia e l'empatia oggi più che mai è l'elemento che caratterizza una comunicazione vincente. Alla lezione ha partecipato anche lo psicoterapeuta e attivista dell'EMPA Giuseppe Napolitano che ha spiegato in che modo si può comunicare con gli animali e quali sono gli errori da evitare. Oggi viviamo in un'epoca molto digitalizzata e quindi il rapporto con gli animali ci permette di riscoprire quella visione un pochettino più diretta e analogica della vita. È importante comunicare con gli animali perché attraverso la comunicazione si crea un legame e quindi si mette in comune quello che è l'aspetto psicologico e quella che è la realtà affettiva dell'animale. Quando penso agli errori che commettono le persone che amano gli animali e anche il mondo animalista è quello di proiettare le proprie emozioni su una tabula rasa. Mi viene in mente il nostro caro Rorschach quello psicologo svizzero che inventò quelle macchie che non avevano tanto senso e in cui ogni persona riusciva a vedere quelle che erano le proprie proiezioni. In questo caso noi vediamo che un animale non ha gli stessi canali comunicativi e gli stessi elementi percettivi manca di semantica in alcuni casi di quella che è il nostro linguaggio. Quindi quello che noi facciamo non è che proiettare le nostre emozioni e le nostre sensazioni nei confronti degli animali. Quindi uno degli errori che si fa particolarmente quando si approccia agli animali è quello di pensare più a se stessi che all'animale. È stata celebrata l'eremo dei Santi Cosma e Damiano di Sernia la Virgo Fidelis patrona dell'Arma dei Carabinieri con la messa ufficiata dal Vescovo Camillo Cibotti il comandante provinciale Fabrizio Coppolino nel suo intervento ha sottolineato il valore della fedeltà caratteristica fondamentale di tutti gli appartenenti al corpo dei Carabinieri. E ora festeggiamo Attilio Zullo che ha spento 100 candeline. La singolarità del suo compleanno è rappresentata dalla festa che si è svolta in un ufficio postale. Sentiamo perché in questo servizio. Con eleganza, garbo e bontà d'animo Attilio Zullo ogni mese raggiunge l'ufficio postale di Sernia per ritirare la pensione. Scampato ad un bombardamento nella Seconda Guerra Mondiale e testimone di grandi cambiamenti il signore Attilio ha da poco compiuto 100 anni un uomo per bene che si è fatto apprezzare e ben volere dai dipendenti della sede postale in corso Garibaldi tanto che la direttrice ha voluto organizzare per lui una piccola festa di compleanno facendogli spegnere 100 candeline anche in quel luogo dove puntualmente trasmette i suoi valori e dove ormai si sente a casa e in famiglia. Il signor Attilio in maniera molto distinta e formale ogni mese puntualmente si rega personalmente a ritirare la sua pensione. Quindi questo evento lo facciamo appunto per omaggiarlo di questa sua bontà di questa sua eleganza che ci trasmette ogni mese e praticamente ci permette di cambiare tutti questi valori che mensilmente il signor Attilio ci trasmette come lui come tutti i clienti e anche per dimostrare come poste italiane è vicino ai clienti è vicino a tutti i clienti e a tutti i cittadini. Nuovi progetti da parte del gemello di Einstein illustrata un'app per mettere in contatto continuo la struttura studenti e utenti. Vediamo. Francesca Lembo dunque al gemello di Einstein lanciate un'app. Sì, questa in realtà è la seconda fase di un progetto iniziato già in precedenza di un nostro portale chiamato Eureka ideato da da professionisti prettamente molisani noi del gemello di Einstein e da un'impresa molisana di Francesco Di Leva e Mario Giancola e il DJL Tech. L'idea è quella di creare un portale che possa essere ancora più di supporto alle famiglie. Stando nel mondo dell'istruzione ci siamo resi conto come un confronto quotidiano tra un centro come il nostro che supporta ragazzi sia con difficoltà ma che deve semplicemente imparare un metodo e la famiglia in maniera quotidiana può essere utile. La novità di questo portale è che da qualche giorno sarà possibile scaricare il download gratuitamente sia sugli store della Apple che Android e in ultima fase creeremo anche una suite di programmi proprio utili allo svolgimento delle attività nel doposcuola. In sintesi cosa sarà possibile? Non soltanto vedere il calendario e il planning delle lezioni ma avere tutto il materiale da noi prodotto in un archivio delle lezioni inoltre i genitori potranno vedere giornalmente cosa i propri figli hanno fatto quindi un report quotidiano dei docenti con tutto il materiale caricato in modo che quotidianamente si può effettivamente vedere il progresso dei figli e ciò che si fanno qui e anche ovviamente poi in autonomia a casa. Quindi diciamo è un di più a un'attività che è un centro per l'apprendimento che voi fate funzionare benissimo già da anni e che evidentemente punta alla qualificazione anche diciamo degli studenti. Sì, noi dal 2016 siamo attivi sul territorio e in realtà è un'attività che è cresciuta anno dopo anno le esigenze e anche le richieste delle famiglie aumentano notevolmente però c'è da dire che nella nostra realtà il rapporto sinergico anche con le istituzioni scolassiche nonno è molto attivo quindi un portale e un supporto di questo tipo può essere effettivamente un di più un aiuto a quella che dovrebbe essere la normale attività quotidiana dei ragazzi in questo modo li possiamo seguire di pari passo e possiamo essere quel più quel qualcosa che li permette di essere autonomi e poi di raggiungere degli obiettivi scolastici e non ovviamente ed è tutto anche per l'ultimo appuntamento con il nostro telegiornale il prossimo con il Tg è quello di domani mattina della rassegna stampa grazie per essere stati con noi da parte mia e della redazione l'augurio di una buona notte grazie per la visione